Siamo un giovane per bene Verdellino, in verità nati a Milano come giovane per bene, con un'idea di un imam che si chiama Sheikh Mohammed che ha iniziato a fare questo movimento dopo questi fatti del coronavirus a Milano. Noi qui abitando a Verdellino abbiamo notato che forse si arriva un po' più nella periferia che a Milano perché a Milano le associazioni tipo Caritas, una volta che hai una residenza riesci ad arrivare e riesci ad avere gli aiuti un po' di meno in questi paesi di qua, in provincia di Bergamo che tra l'altro è quella più colpita. Riusciamo a distribuire il sabato che è il giorno in cui abbiamo lasciato il nostro avviso con la gente, riusciamo ad arrivare a 130 famiglie e durante la settimana ci vengono segnalate altre famiglie che sono in provincia di Bergamo. Sono altre 40 famiglie che riusciamo a coprire più o meno durante la settimana. Abbiamo iniziato in quattro, poi siamo riusciti ad essere sette e adesso siamo in sette con altri dieci ragazzi che ci aiutano quando possono.